Musica Benvenuti a questa nuova edizione di questo non è un TG edizione scienza e tecnica. Oggi parleremo di mucche, una cura per le mucche contro le emissioni di gas a serra. Universo show, l'universo protagonista al Festival delle Scienze di Roma. Mucche, una cura per le mucche contro le emissioni di gas a serra. Le mucche, con le loro potenti e abbondanti flatulenze, rappresentano una delle maggiori e più curiose fonti di emissioni di gas a serra nell'atmosfera. I ricercatori dell'agenzia Biotech australiana Gramigna PTE-LTD hanno trovato una cura altrettanto curiosa. Una dieta basata su erba geneticamente modificata. Secondo i dati forniti dall'Environmental Protection Agency statunitense, il settore degli allevamenti bovini costituisce un terzo di tutto il metallo rilasciato in atmosfera. Un gas a serra 21 volte più potente del CO2. Questo perché nel sistema digerente di questi erbivori esistono dei batteri particolari che permettono loro di dirigere la lignina dell'erba, ma che, allo stesso tempo, producono metallo che viene rilanciato attraverso le flatulenze dei bovini. Universo Show L'universo protagonista al Festival delle Scienze di Roma Dal 15 al 18 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma si è svolto il Festival delle Scienze 2009. Il tema scelto per questa edizione è l'universo. Il 2009, poi, è stato dichiarato dall'ONU l'anno internazionale dell'astronomia, delle grandi scoperte in coincidenza all'anniversario dei 400 anni delle prime osservazioni con il cannocchiale di Galileo Galilei. Il programma ha previsto numerosi dibattiti con la presenza di fisici, matematici, astrofisici di fama internazionale e nazionale, fra cui George F. Smoot, premio Nobel per la Fisica 2006, Antonio Lazzcano e Margherita Huck. Si è svolta, inoltre, una prima italiana, la terza a livello internazionale di uno spettacolo, Helicopter Quartet, di Karl Eilz Storchhausen, che è una sinfonia per quattro musicisti e quattro veri helicotteri in uno. Al prossimo appuntamento con Calisano Martina.